Tutti. Ieri, anzi, a notte tarda abbiamo completato e io ho firmato il nuovo DPCM che introduce le nuove misure restrittive, misure che ci consentiranno di affrontare questa nuova fase della pandemia. La curva epidemiologica sta risalendo, lo vediamo degli ultimi giorni e in tutta Europa sta risalendo questa curva, alcuni paesi versano in situazioni molto critiche, l'Italia è una condizione migliore ma non ci possiamo permettere nessuna distrazione, non possiamo abbassare il livello di attenzione, non possiamo abbassare il livello di concentrazione e per questo che variamo queste nuove misure, comporteranno dei sacrifici ulteriori, però siamo convinti che con questi sacrifici e quindi rispettando queste misure potremo adeguatamente, sempre col criterio quindi di adeguatezza e proporzionalità affrontare questa nuova fase. Il nostro obiettivo è molto chiaro, dobbiamo evitare di far ripiombare il nostro paese in un lockdown generalizzato. La vita sociale, la vita economica ha ripreso a correre, gli indici economici sono molto positivi, sta crescendo la produzione industriale, stiamo recuperando terreno, dobbiamo continuare a correre, allora per preservare il tessuto produttivo, la nostra economia e tutelare al contempo il nostro obiettivo primario, la salute, dobbiamo adesso predisporci a rispettare queste regole. Le riassumo a beneficio di tutti, dell'obbligo di portare con sé e di indossare la mascherina anche all'aperto l'abbiamo già detto, l'abbiamo già introdotto nei giorni scorsi con decreto legge, lo dobbiamo fare anche all'aperto a meno che non ci si ritrovi in condizioni di isolamento continuo. Dobbiamo però migliorare anche i comportamenti, assumere comportamenti più corretti anche nelle abitazioni private, stiamo assistendo a un'evoluzione della curva del contagio e a un innalzamento dovuto soprattutto alle dinamiche che si sviluppano in ambito familiare, in ambito amicale. Quindi anche nelle abitazioni private dobbiamo assumere comportamenti corretti, come indossando le mascherine se ci si avvicina persone fragili, vulnerabili, se si ricevono ospiti, persone non conviventi, anche lì ci può essere una fonte di pericolo e vi invitiamo a limitare anche il numero di ospiti non superiori a sei e assolutamente vi invitiamo a non svolgere il consentito svolgimento di feste, di parti nelle abitazioni private. Sono tutte situazioni di pericolo insidiose che ovviamente possono farci sfuggire la situazione di mano, quindi sono pericolose, dobbiamo assolutamente evitarle. Ovviamente non manderemo, voglio essere chiaro, le forze di polizia nelle abitazioni private. La sfera di vita privata la vogliamo assolutamente tutelare, però tutti dobbiamo predisporci ad assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase. E ancora, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie dovranno chiudere a mezzanotte e dalle ore 21 c'è un'ulteriore limitazione. Si potrà solo consumare ai tavoli, dentro o fuori che siano, non si potrà più sostare davanti a questi locali consumando in piedi cibi o bevanti. Dobbiamo evitare assolutamente assembramenti. Resteranno chiuse anche le discoteche, le sale da ballo, il governo non le ha mai aperte e rimarranno chiuse. E nei locali pubblici, aperti al pubblico, non saranno consentiti più festeggiamenti, a meno che non siano collegati a cerimonie civili o religiose, penso a battesimi, penso a matrimoni, ma con un limite di 30 persone. Anche qui ci rendiamo conto dei sacrifici, sia per i privati che per gli operatori economici, ma dobbiamo assumere atteggiamenti più prudenti. E non saranno più consentite, quindi saranno sospese, le gite scolastiche, distruzione, le uscite didattiche. Le rinviamo a tempi migliori. E da ultimo vi segnalo che non saranno più consentite le partite, ad esempio, di calcetto, di basket, che tanto ci piacciono. Lo sport di contatto a livello amatoriale non sarà più consentito, mentre invece proseguirà lo sport di contatto tra società professionistiche o dilettantistiche, che ovviamente risperteranno i protocolli e le linee guida. Prego le domande. Buongiorno Presidente, Marilena Vinci per Stasera Italia. Le opposizioni lamentano ancora una volta il mancato coinvolgimento, dicono di voler collaborare. Allora le chiedo se non era il caso stavolta di passare per il Parlamento. E anche i Presidenti delle Regioni si lamentano e dicono che i loro lilievi non sono stati accolti. Come risponde? Ma guardi, abbiamo lavorato intensamente con i Ministri per preparare queste misure. Abbiamo avuto un intenso confronto con i Presidenti delle Regioni e degli enti locali. Li abbiamo incontrati, ci siamo confrontati ampiamente. Abbiamo raccolto, non è vero che abbiamo raccolto tutti i suggerimenti, alcuni suggerimenti li abbiamo raccolti, altri abbiamo ritenuto di non poterli accogliere. Ma quello che voglio sottolineare è il clima di grande collaborazione che si è ristabilito. Dobbiamo proseguire con questa collaborazione, dobbiamo proseguire con questo confronto, perché è questo che ci ha consentito sin qui, a livello istituzionale, di poter gestire la fase più dura. Ora, ovviamente, chiediamo lo sforzo anche a tutti gli italiani. Dobbiamo continuare con quel senso di responsabilità, con quell'atteggiamento prudente, con quelle precauzioni, rispetto delle precauzioni di queste regole, perché questa è stata la nostra forza. Io l'ho dichiarato sempre, anche in interviste a livello internazionale, ho sempre detto che qui non c'è il merito del Governo, di un singolo Ministro, del Presidente del Consiglio, ma il merito è di tutta la comunità nazionale, che è uscita dalla fase più dura, con senso di solidarietà, coesione e di responsabilità. Dobbiamo recuperare quel senso e a maggior ragione con le opposizioni. C'è la massima disponibilità a condividere. Tra poco adesso scapperò al Senato per parlare delle prospettive del Consiglio Europeo, ma a breve ritornerò al Parlamento anche per dettagliare le ulteriori prospettive che abbiamo davanti, sia per quanto riguarda la gestione della pandemia, sia per quanto riguarda la gestione delle risorse del Recovery Fund. Buonasera Presidente, Marco Villaci, Fanpage. Volevo capire se con le misure approvate nel DPCM di ieri voi contate di piegare la curva dei contagi, fermare la crescita, almeno la crescita esponenziale dei contagi, o se i cittadini devono sapere che questa è una prima tappa, ma nel percorso dell'inverno dovranno, con gioco forza per piegare la curva, arrivare altre misure. E se in quest'ultimo caso perché avete deciso di non anticipare già misure più forti già adesso? Grazie. Ma guardi, la nostra linea di azione di gestione di questa pandemia è sempre la stessa. Seguire sempre, monitorare costantemente la curva, elaborare tutti i dati, studiarli con gli esperti ovviamente che ci suggeriscono, e poi adottare le misure è segno dell'adeguatezza e proporzionalità. Quindi adottare misure molto più severe, molto più restrittive, sarebbero inadeguate o sproporzionate e c'è il rischio anche che non siano poi rispettate. Noi abbiamo un patto con i cittadini, con tutta la comunità nazionale. Noi ci impegniamo a non adottare misure più severe di quelle necessarie a prevenire e tenere sotto controllo la curva del contagio. E queste sono in questo segno. Tra l'altro sono misure mirate, come ho già detto, analizzando tutti i dati. Per esempio stiamo verificando che nell'ambito della scuola le cose stanno andando abbastanza bene, lo diciamo incrociando le dita, mentre invece l'evoluzione peggiore è segnata in questo momento nell'ambito delle reazioni familiari e amicali. È per questo che abbiamo introdotto misure mirate. Vogliamo scongiurare un lockdown generalizzato. Abbiamo un sistema di monitoraggio che ci dovrebbe, nel caso peggiore, consentire di intervenire in modo molto mirato, anche geograficamente localizzato. E quindi dobbiamo rispettare le regole e muoverci in modo fiducioso, perché abbiamo una prospettiva. Peraltro dobbiamo anche tener conto che le ricerche del campo del vaccino, delle terapie farmacologiche, delle terapie varie stanno andando molto avanti. Quindi se noi continuiamo ad essere responsabili nelle prossime settimane, ragionalmente inizieremo a incrociare poi le prime risultanze positive per quanto riguarda la ricerca scientifica, quindi con una prospettiva che ci rincorrerà perché ci consentirà di vedere il portone in fondo al tunnel con la luce piena. Grazie. Giuliano Rosciarelli, Alanius. Come risponde all'opposizione che parla? Anche domenica ci sono state due manifestazioni di torsione della democrazia nel nostro Paese. E l'ultima, entro quanto vi aspettate, entro quanto arrivano gli effetti di queste nuove misure? Il DPCM dura 30 giorni. Voi che tempi vi date per capire come va la curva o meno? Guardi, non saprei cosa rispondere. Cosa significa torsione della democrazia? Noi abbiamo fatto tutto quello che è necessario fare compatibilmente con la nostra legislazione per far fronte a una pandemia che ovviamente ci ha procurato già tanti decessi, continua a stressare il nostro sistema sanitario. Abbiamo un dovere prioritario di tutelare la vita e la salute dei cittadini il bene più prezioso, oltre che evitare che in una situazione di pandemia del genere, con il calo di fiducia eccetera, il crollo della domanda, dell'offerta, l'intera economia vada a rotoli. Un'altra soluzione francamente non c'è, è non dedicarsi a questo obiettivo. Mi sembra che, l'ho già chiarito, le nostre misure sono sempre il segno dell'adeguatezza, proporzionalità. Quando abbiamo applicato delle norme l'abbiamo fatto con decreto legge, con DPCM che si ricolleghi l'alto decreto legge, rispettando i principi costituzionali. Buonasera Presidente, Laura Cannavo, Tgcom 24 News Media. Allora, la scuola, lei ha parlato prima della scuola, ieri ha aleggiato il pericolo che si potesse tornare alla didattica a distanza per alcune classi delle superiori. C'è stato, come dire, anche un dibattito abbastanza forte con le regioni. La Ministra Zolina era contraria. Lei può escludere che in futuro si torni alla didattica a distanza? Cioè la scuola è un punto intoccabile del sistema paese che non può assolutamente fare passi indietro rispetto a quello che sta avvenendo oggi. Cioè quindi sistema di controllo, monitoraggio, ma presenza. Guardi, per la scuola abbiamo fatto tanti sacrifici, tutti quanti, in termini di investimento di risorse, di impegno, proprio per consentire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di poter tornare a scuola in condizioni di sicurezza. Questo perché pur in una situazione di difficoltà evidente, sanitaria, sociale, economica, abbiamo pensato che la scuola debba essere un asset, lo chiamo così, un asset privilegiato da tutelare. Continueremo a farlo e come ho già detto, dai riscontri che abbiamo, dalle verifiche, ma continueremo ad aggiornarci ovviamente perché dobbiamo mantenerci sempre flessibili, nell'ambito della scuola le condizioni di sicurezza sin qui garantite si stanno rivelando efficaci, anche per la responsabilità dei dirigenti scolastici, dei docenti, del personale ATA e dei nostri ragazzi. Abbiamo i riscontri, quindi che non è lì nessun focolaio, non si crea generalmente nessun focolaio di diffusione del contagio. Però dobbiamo stare attenti, tutto quello che ruota anche intorno alla scuola, prima, dopo la scuola, incontri poi nelle abitazioni private, se mai per un party o anche solo per studiare, ma poi per distarsi eccetera. Quindi faremo di tutto per proseguire in questa direzione. ecco perché non c'erano i presupposti e non ci sono attualmente i presupposti per tornare, prefigurare, ipotizzare una didattica a distanza. Buonasera Presidente, Valerio Toma, Dritto e Rovescio. Una domanda sull'aumento degli stipendi per i funzionari di prima e seconda fascia di Palazzo Chigi. Le chiedo, Presidente, era il caso di concedere un aumento a dirigenti che già guadagnano bene, soprattutto in un contesto di crisi come questo. Grazie. Guardi, non è una questione che seguo direttamente, però ho raccolto informazioni ovviamente, perché tra l'altro ho saputo, non so se è capitato a lei che ieri è stato allontanato, di questo mi dispiace e me ne scuso personalmente. Non ne sapevo, sono stato informato questa mattina. Per quanto riguarda la questione del... più che aumento si parla di rinnovo dei contratti. Dal 2009 c'è in ballo un rinnovo dei contratti che sono scaduti, quindi come in altri settori dell'amministrazione pubblica c'è un negoziato in corso. Questo negoziato in corso non lo conduco io, ma non lo conducono eppure nessuno qui della Presidenza del Consiglio, ma c'è un'agenzia deputata, si chiama ARAN, è un'agenzia pubblica che presiede appunto a negoziare questi rinnovi contrattuali, ripeto, scaduto dal 2009. Le aggiungo che le somme sono state già stanziate nel 2016, non da me, io non c'ero nel 2016, anche se sono sempre disponibile a prendermi colpe pregresse. Detto questo non è stato ancora deliberato nulla, c'è un negoziato in corso, forse lei mi ha informato, fa riferimento ad alcune ipotesi di incrementi stipendiali che non sono state deliberate, neppure mi risulta dall'ARAN, neppure proposte, quindi è tutto un discorso ancora da definire. Le ho dato gli estremi, tutte le informazioni di cui sono a conoscenza continuerò ad informarla. Prego. Buonasera Paola Motta, Sky TG24. Solo il distanziamento sociale ci può aiutare a superare questa seconda ondata di epidemia, ma nei trasporti pubblici locali? Sì, forse a rigore dovremmo parlare, smetterla un po', io stesso qualche volta ho usato queste espressioni impropriamente, dovremmo parlare di distanziamento personale, perché in realtà questo distanziamento personale, queste regole di distanziamento ci hanno avvicinato ancora di più, quindi non parlerei di distanziamento sociale. La comunità si è rivelata quanto più coesa. Per quanto riguarda la domanda specifica sui trasporti pubblici, di trasporto locali a tutti i livelli, è sicuramente una situazione critica quella, perché come è stato documentato anche nei giorni scorsi, al di là dei tanti sforzi che vengono fatti, sia per quanto riguarda i protocolli ovviamente di distanziamento e di contingentamento all'interno dei mezzi di trasporto, sia per quanto riguarda gli sforzi di tantissime amministrazioni, anche aziende private, di sfalsare ovviamente, dosare gli ingressi, le uscite dalle aziende private e pubbliche, è chiaro che ci sono dei momenti in cui è pressoché inevitabile che si verificano degli affollamenti. Dobbiamo evitarli, continueremo quindi a monitorare la questione, continueremo a investire per quanto possibile, per consentire ovviamente che le persone possano, o che sono costrette a ricorrere ai mezzi pubblici, possano farlo in condizioni di assoluta sicurezza. Buonasera Presidente, Camillo Barone, Classi Ambistit TV, volevo sapere se la data di scadenza che lei si era dato del 15 ottobre per l'invio delle linee guida per gli investimenti sul recovery fund sarà rispettata o sarà prorogata? Se sì, visto che ormai ci siamo, può darci maggiori dettagli al riguardo? Grazie. Guardi, per quanto riguarda le linee guida, noi le abbiamo già mandate al Parlamento, anzi adesso al Parlamento c'è un riscontro, oggi ne parlerò, ne farò un accenno, anche se il tema adesso sia al Senato che alla Camera tra oggi e domani sono le conclusioni del prossimo Consiglio europeo. Però il Parlamento ha lavorato, ci offre un riscontro, mi sembra positivo perché nella sostanza condivide le linee guida, noi siamo in condizione di presentarle. Poi vi ricordo il tema dei progetti, invece ancora di là da venire, aspettiamo la scadenza della Commissione al momento e ai primi di gennaio, per quanto riguarda i singoli progetti. Per le linee guida noi già ci siamo. Grazie, buon lavoro a tutti.